La donna ferita dalla malattia che riemerge con tutta la sua energia, la sua forza e il suo coraggio e da una crisalide diventa una splendida farfalla. Un trionfo di colori e di vitalità che dona luce e positività dopo un periodo duro e difficile. E' questo il senso di emozioni in movimento Fashion Week Color Perugia, lo spettacolo di beneficenza che si è svolto sabato 3 dicembre presso il Teatro Mengoni di Magione, organizzato dall'associazione Vivo a Colori della presidente Claudia Maggiorana con il patrocinio della regione dell'Ungria, della provincia di Perugia e del comune di Magione. Un connubio tra arte, danza, musica e recitazione che ha emozionato e coinvolto il pubblico presente.